Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video, oggi siamo qui in questo nuovo episodio del pacchetto moddato Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo ucciso il Lynch e siamo anche andati nel labirinto del Minotauro, soltanto che non l'abbiamo trovato Nel corso di questa serie andrò di nuovo nella Twilight Forest, così possiamo uccidere l'Hydra e fare qualche altro achievement Oggi invece ragazzi volevo continuare la Towncraft e quindi volevo fare l'altare per poi craftare i Boots of Traveler Quindi, questi blocchi di terra, come vedete, li ho messi appunto perché poi con altri blocchi che dovrò craftare Ciao! Che cosa vuoi tu da me? Ah io! Allora ragazzi, questi blocchi li ho messi perché appunto verranno sostituiti con dei blocchi che devo craftare e comunque questa è la formazione del nostro altare Quindi, ci servono gli Arcane Stone Block, poi togliamo questa essenza che ci ha dato Poi ci servono, ci servono un Ranic Matrix e poi dei piedistalli, Arcane Piedistall E poi ci servono anche questi qua, gli Arcane Stone Bricks Quindi, andiamo a fare tutti questi materiali per fare il nostro altare Quindi, qui questo è il crafting appunto degli Arcane Stone Block, che ne prendiamo un po' Poi con questi facciamo qualche Stone Bricks Poi facciamo anche i piedistalli, che ce ne servono un po' Allora, vediamo un po', ce ne da due a botta Hmm, devo craftare molti blocchi, quindi prendiamo l'altra Stone e mettiamo un qualsiasi Vista al suo interno Ok, abbiamo dieci piedistalli, degli Arcane Stone Bricks e poi dobbiamo craftare anche il Ranic Matrix Quindi, il Ranic Matrix, abbiamo detto che si fa in questa maniera Quindi, mi serve altra Stone che posso prendere qua, nella mia chest Come vedete, è già tutto organizzato Quindi, facciamo altri blocchi E così possiamo fare questo blocco Diverso dagli altri, perché appunto Con la bacchetta poi Andremo a formare il nostro altare Perché questo blocco è davvero molto importante Ora, ho 40 di aria Perché mi serve anche la bacchetta Quindi Questo l'ho fatto con il Ranic Matrix Mi ha tolto 38 38 DDD Aspettate che ve lo dico subito E di ordo Perché appunto Serviva l'ordo per fare questo blocco E poi, per craftare l'altare Devo avere 25 Di ogni elemento Quindi poi dovrò trovare altro ordo in giro Vediamo un po' se 12 bastano Mi sa O sono precisi o non bastano O no, sono precisi Però me ne serve un altro Perché lo devo mettere qua sotto Quindi andiamo a farne subito Un altro Prendiamo gli Arkinstone Bricks E invece li andiamo a mettere qua sotto E poi sopra di esse Andiamo a mettere i blocchi normali Invece Ok, quindi Prendiamo gli Arkinstone Block Nel frattempo Piazziamo questi due Oh, madonna quanti ne devo craftare Craftare è un bordello Quei due li ho messi Lo mettiamo anche uno qua Uno qua Poi Qua sotto ci va il piedistallo E poi qua sopra Non proprio qua sopra Ma Un blocco sopra Quindi facciamo così Allora L'ho sentito Grazie alle cuffie Anzi Nel padiglione destro Che stava esplodendo qualcosa Per fortuna Il nostro Creeper Non ha fatto danni Al nostro altare Però Almeno Sono riuscito a scappare Pensavo che Comunque non esplodesse Invece no È esploso lo stesso Grazie Creeper Però come vedete Tutto a posto Allora Stavo dicendo Non va qua sopra Ma va un blocco sopra Ancora Quindi Lo mettiamo qui E poi adesso Mi serve la bacchetta Con 25 Ad ogni elemento Quindi devo andare Alla ricerca Di ordo Si però questa È una lotta Mi vogliono Sabotare Questo è anche ovvio Perché è già il secondo Quindi prendiamo La nostra bacchetta E andiamo alla ricerca Di ordo Ok ragazzi Sono riuscito a trovare Dell'ordo Infatti come vedete Adesso ho 26.44 E per fare il nostro altare Me ne serve 25 Di ognuno Quindi in teoria Dovebbe funzionare Tasto destro Sul running matrix E ecco qui Il nostro altare Che prende forma Ora ragazzi Che bello Ok Ora ragazzi Andiamo a fare La ricetta Del Dei boots of traveler Che poi crafterò Appunto lì Con il nostro altare Allora ragazzi Naturalmente ogni volta Che cerco di fare Una ricetta È diversa Dal solito E quindi alcuni elementi Erano messi In altre posizioni Però comunque Poi sono riuscito A trovare la soluzione Quindi questa qua È appunto La ricetta Per sbloccare I nostri boots Of traveler Quindi ecco qui Tasto destro E adesso andiamo a vedere Nel libro Eccoci qui Allora Arcane Fusion Vabbè sì Boots of traveler Allora Air shard Air shard Enchanted fabric Enchanting fabric Feeder E un pesce E al centro Il leader boots Ok perfetto Quindi noi Sui nostri Piedistali Dobbiamo mettere Questi strumenti Questi oggetti E poi dobbiamo Anche avere Con la bacchetta Anzi non con la bacchetta Con Le nostre Jar Dobbiamo avere 25 di Ether E 25 di Volatus Perfetto Quindi prendiamo Tutti questi oggetti Allora ragazzi Eccoci tornati Allora ho messo Gli elementi sugli altari I nostri stivaletti Al centro Ho riempito Le jar Con Volatus E Ether Volatus L'ho preso Grazie alle Piume Mentre Ether Grazie ai cancelletti Di legno Quindi Siamo pronti Appunto per posizionare Queste due jar Quindi andiamo A metterle Una e Una due E poi Con la bacchetta Andiamo a fare Tasto Destro Qua Ok Sta scendendo Il volatus Anche l'animazione È abbastanza epica Guardate L'elemento Il volatus Che entra Nei stivaletti Vediamo un po' Se funziona il tutto Mi allontano Un pochetto Anche l'Ether Sta andando Vediamo un po' Sta prendendo I vari elementi Come vedete Guardate che taglio Epica sta cosa Vai Prendi la Piuma Prendi il pesce Eccoci I boots of traveler Ragazzi Che figata di animazione Non l'avevo mai provato Non l'avevo mai fatta Anzi Ed è una cosa davvero Molto molto epica Allora ragazzi Con i nostri Boots of traveler Allora andiamo Un po' più veloci Possiamo anche Camminare più veloci In acqua Saltiamo anche Di più Faccio vedere Prendiamo questi blocchi Ora non mi ricordo Se Mi sa un blocco In mezzo O anche due No Anche due Un po' tipo tre Ah no tre Ci arriviamo Ok Allora No quattro no Quattro no Però tre blocchi si Due tre blocchi Perfetto Poi vediamo un po' La nostra velocità in acqua Guardate quanto salto E poi ho anche Feder falling Adesso infatti Ho perso quattro cuori La velocità in acqua Si Non tantissimo Però comunque È un po' Più veloce E quindi Dei stioletti Davvero molto buoni Soltanto che Come vedete Mi dà solo uno Di armatura Quindi questo Possiamo dire Che è uno Dei difetti Proviamo a far parkour Arrivare qua sopra Guardate Parkour Anche senza Jetpack Quindi molto molto Buoni devo dire Di quanto salto Oh porca miseria Allora Jetpack Questi poi Li lasciamo a casa E poi anche Le nostre ali Quindi tipo salto Jetpack Oh 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 Intanto sento pure Un enderman Però sono entrato Nel calderone Nell'acqua calda Cioè pure senza Il jetpack Guardate che Salto davvero Molto in alto Quindi Perfetto Ok ragazzi Questa era appunto Come si craftano I nostri Boots of Traveller Vi ho fatto dire L'altare Che come avete visto Ha fatto un'animazione Davvero molto molto Epica Che prende I vari elementi E poi Ad uno a uno Prende gli oggetti Messi sui vari Altari Qualcosa di Davvero molto molto Epico Davvero Magico proprio E quindi abbiamo fatto Loro Che come vedete Quanto ci hanno di durata 348 Che Sì Non è tantissimo Sono come Sì Sono come I nostri Googles Ok ragazzi Quindi Questo era l'episodio Del pacchetto moddato Spero vi sia piaciuto Scusate se il video Dura un po' di meno Però Vi giuro che dietro C'è molto lavoro Perché per fare tutto questo Per fare tutte Le varie jarre E tutto quanto Ci ho messo un po' di tempo Quindi Spero sia apprezzato Il mio sforzo Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un piace Di commentare Di condividere questo video E se non l'avete ancora fatto Iscrivervi al canale Pagina facebook in descrizione Instant game in descrizione Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao a tutti